Come si sono comportati i mercati nei precedenti crolli e quanto tempo è durata la fase di ripresa una volta toccato il minimo? La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. In una settimana come quella appena trascorsa, dove abbiamo visto i mercati finanziari battere qualsiasi record negativo storico, è giusto chiedersi come si sono comportati i mercati durante i più importanti crolli della storia. Partiamo con l'analizzare l'indice della borsa italiana e quello della borsa americana. Il Futsimib, dal massimo di metà febbraio a venerdì scorso, ha perso il 36,6%, mentre lo Standard & Poor's 500, l'indice americano delle prime 500 aziende a livello di capitalizzazione, ha perso il 21,6%. La nostra borsa è stata anche influenzata negativamente dalle dichiarazioni pronunciate e poi in parte ritrattate da Christine Lagarde, l'attuale presidente della BCE, dove aveva dichiarato che la BCE stessa sarebbe stata poco propensa nel difendere la stabilità dei conti in paesi in difficoltà. In questo momento siamo il paese che più sta soffrendo in Europa. Giovedì, oltre al crollo del listino azionario, superiore al 16%, c'è stata l'impennata dello spread, con il conseguente danno a livello di tassi di interesse sui nostri titoli di Stato e conseguentemente quello che è anche l'impatto sul nostro debito pubblico. A questo punto analizziamo i principali periodi di ribassi storici della borsa americana, il tempo e in che percentuale è avvenuta la fase di ripresa. Il più importante ribasso è avvenuto con la crisi del 1929, dove la fase di ribasso è durata 34 mesi con una perdita dell'83%. La successiva fase di rialzo è durata 151 mesi con un recupero del 506%. Dobbiamo dire che però che in quegli anni non c'era la globalizzazione dei mercati come oggi. Anche se fu una crisi che influenzò del resto tutta l'Europa, però non c'erano neppure gli strumenti per poter intervenire a sossegno dei mercati come ci sono oggi. La seconda crisi più importante è stata quella nel periodo 2007-2009, dopo il crack Lehman Brothers. La fase di ribasso è durata 5 mesi con un calo del listino del 52%. Il successivo recupero è durato 25 mesi con un recupero del 225%. La terza crisi più importante è stata quella della bolla internet dal 2000-2002. La fase di ribasso è durata circa 6 mesi con un calo del 44%. La fase di recupero è stata di 61 mesi con un rialzo del 110%. Ci sono stati altri periodi negativi, ma ho voluto prendere e evidenziare quelli più importanti e quelli soprattutto di dimensioni più grosse. Se analizziamo i numeri, possiamo valutare che più è repentino il crollo e più è duraturo e di lungo periodo il recupero. Verrebbe in automatico di dire la classica frase, questa volta è diverso. Sì, è vero, così non lo abbiamo mai visto, perché soprattutto questa volta sta vincolando anche le nostre abitudini di vita. Però c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare e che deve essere sempre una regola valida per i nostri investimenti. L'orizzonte temporale è che cosa vogliamo ottenere. Dobbiamo armarci di molta pazienza e cercare di essere influenzati il meno possibile dall'emotività. La citazione di oggi è la seguente. La prima regola dell'investimento è compra basso e vendi alto, ma molti temono di comprare basso a causa della paura che le azioni scendono ancora più in basso. Allora ci si può chiedere, quando è il momento di comprare basso? La risposta è, quando c'è il massimo pessimismo. Sir John Templeton. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Grazie.